Buonasera Duc e bentornai a Chianton Ladin. Stasera vi portò un del lungo su alla roccia dove ho intervistato il capo comune Valerio Davare e l'ingegner Felice Gaillardo sui lavori di sistemazione dei serai di Staguda ruinei Davaia ente il 2000 di Sdot e tornai ad essa nuova vita. Buonasera e benvenuti in cui siamo qui ai serai di Staguda a una al capo comune della roccia Valerio Davare. Sono venuti a vedere come è che lei sta qui questa nuova vita dei serai da spò che sta ai serai per un buon cinque anni e le modalità e che che si può vede da adesso ai anche venn. Per noi i serai le quasi una roba familiare le quasi un velc che lei della comunità e che lei torna alla comunità. E' stato proprio stai contenti di aver potuto da nuovo vedere operativi dopo delle gite da nuovo a sentire il vento sulla pelle a sentire da nuovo il ruo che corre sotto le nuove spiega è veramente una delle nostre perle delle nostre dolomiti insomma. Valerio sa anche che i serai le stai è l'epicentro del che l'estate l'uragano vaia dunque da cercate di far capire in cinque non la dente anche a chi ne ascolta che che l'estate chi dì e che che rappresenta dunque adesso è il fatto che torna a verde i serai per la dente luog. In te chi dì tutte le dolomiti ma soprattutto il comune da roccia ha passato veramente delle burte giornale. oltre a una roba così turistica sentuto dalla gente le va inizia il nostro acquedotto perché sotto la strada passeva il nostro acquedotto passeva tutti i sottoservizi e quindi da chi dì con le ruo e vaia oltre a portavia tutta la strada tutti i serai diciamo la portavia inizia la nostra eiva quindi le serai e stere faccia inizia per un altro scopo perché questa è in effetti una strada a tutti i effetti che in caso di emergenza la può essere dorata quindi la può tenere tot chili al metro e ci sono due poche e stai con l'au dei quindi è un'infrastruttura che potrebbe servire per l'emergenza che al di sotto è con due nostri sottoservizi con l'acquedotto elettrodotti insomma è proprio una roba e riportare la valle a come che le va a Pruma anzi la scena è di a meglio di come che le va a Pruma Felice Gaillardo direttore dei Laor posto nei contancinche che le state il Laor da Drio e in cinde dati del che sbel progetto che aveva portato avanti Volentieri sto qua è un dei più grandi interventi che le state fatte nel post Vaia a seguito dell'alluvione che le state fatte anzi il più grande che le state realizzate in Regione Veneto è stato un lavoro che le durà quasi 5 anni fai conto che le state fatte tutte da imprese bellunesi è stato un periodo estremamente complicato e che ha impegnato tutti gli operai che le arriva qua anche con gravi pericoli perché ti vede come che si vede qua alle nostre spalle queste rocce verticali che le è imponenti che le è grandissime e che le ha sempre avreste il pericolo dei sas che le saltava ogni tot oppure anche delle cascate del jazz che saltava durante il periodo primaverile la si sviluppa su circa un chilometro e mezzo di lunghezza più o meno da Sottoguda a Malga Ciappella la strada che le state fatte è una strada che ha 5 ponti di attraversamento del torrente Pettorina e è una strada che ha una particolarità che probabilmente non esiste sicuramente in tutta la regione Veneto ma probabilmente neanche a livello nazionale esiste una roba del genere cioè una passerella onde che si sono su adesso in questo momento tutta la sbalzola questa qua tacata su per la crepa e lunga addirittura 400 metri è una struttura che è stata costruita tutta in acciaio e in lente dell'Ares in modo molto complesso e particolare se ti guardi tutti questi versanti queste pareti che abbiamo di rio sulla schiena l'estate prima di tutto ne tagli con la pulizia generale per mettere in sicurezza l'area e abbiamo passato praticamente palmo a palmo con la mano fisicamente da parte dei rocciatori circa 200.000 metri quadrati di superficie e il risultato insomma l'estate apprezzà anche perché sti sta che l'estate fatta sta iniziativa dei cantieri aperti l'entrà oltre 5.000 persone che ha potuto visitare questo sito e gli restai tutti estremamente contenti di quel che li ha visti in pratica se Convaia i temporali e le alluvioni le ha deciso che le portava via le strade l'estate necessario fare un walk che le potesse restare nel tempo ma non nel tempo limitato nel tempo quasi perenne e che sta struttura le chieda che in linea di massima resisterà per sempre sostanzialmente Restonca da Vecin se spostoni in te Selva per conoscere al Depì sul Museo Vittorino Cazzetta dalla host del direttore Diego Battiston In coesione a Selva al Museo Vittorino Cazzetta essi una una al direttore Diego Battiston che ne contara Depì desta realtà a Casio Museo le è dal VR del 1982 le è nascu grazie a Vittorino Cazzetta e a una squadra di Berbis Chilo da Selva che gli ha fatto nasce una prima collezione di coraggi le è divente grande nel corso degli anni grazie all'amministrazione del comune e grazie al contributo di tutta la comunità di Selva e dei studiosi di varie sort le è un centro di ricerca per l'archeologia la paleontologia e non per cost la gestione che garantisce una serie di servizi didattici e divulgativi su gli argomenti che tratta questo museo e le è diventate sovra tutte in centro culturali di riferimento non per selva ma per tutta l'area dolomitica Diego ne spieghi Tomeio come che le è fatte l'esposizione come che sepolghe di Drio il museo comincia con una sezione dedicata alla geologia delle dolomiti con un corto filmato che fa vedere come queste montagne sono nascute e poi va in avanti con una sezione dedicata alla paleontologia ora che le è riferimento al primo rinvenimento delle tace dei dinosauro fossilizzate che le stesse appena Vittorino cazzetta del 1980 sotto al pelmetto e in più tutta una serie di altri coraggi di questa zona e di tutte le dolomiti che fanno vedere l'importanza di queste montagne dal punto di vista paleontologico le catter sale dedicate all'archeologia preistorica una di una roba che entro salva San Vido di Cadore e salva di Gardana con più di 700 siti archeologici che è che sa sapere velc di chi o in la preistoria del Mesolitico da la epoca che aveva da 11.500 anni fes che aveva finito dall'ultima glaciazione che aveva curitato questo val di glacia per alcune migliaia di anni a 7.500 anni fes che aveva l'agricoltura questi berbis è la cia del cerf del stambec dei Chamourts con più 700 siti ma il sito più importante non fu delle dolomiti ma di tutte le alpi le mondewall de saura che le chilo saura salvade cia d'ore in comune di san vido e da spod l'homme de mondewall e lo sott'edu che l'homme de mondewall ha mille anni 7.500 in fes rua l'agricoltura muda del tut la vita di chi berbis al secondo piano si discor proprio de cost se va in avanti con la storia da can che rua i prunz pastri alla fin del neolitico entorno a 6.000 anni fes e discor de coche che berbis già frequente la monta e in ce plun su a partì dal neolitico fin a rue al medioevo e poi il museo finis con una sezione storica che discor de selva e ince decalche le kilom torna l'estada fatta perde un'ampia panoramica alla realtà culturale non me fo de selva ma de tutta sta area l'ultima nuova la ne porta a Vigo en 2 e 27 de settembre l'estat inaugurale nuove luoc per la conservazione del fondo ladin della provincia de Belum intera biblioteca storica cadorina buondi aduc qui siamo qua a Vigo del Cadore per l'inaugurazione della biblioteca ladina che è stata tramudata da Borcia a Vigo e è stata un bel successo di collaborazione tra la region e tra la provincia di Bellun e il comune di Vigo tra Marzia aduc quanti che la lauree drio a questo progetto che non è facile perché competenze spero che sia bella luog da potei stare a una e imparare quella che è la nostra cultura e la tradizione qui mi pare che è una bella giornata perché tutto il lavoro che ho fatto gli anni passati l'ho un beto a posto insomma e perché stavano a Diga e Marzia ha tanta gente soprattutto alla region alla provincia di Bellun al comune di Vigo alla federazione questa roba che è un beto a posto insomma che è la ricetta di Remengo la minoranza linguistica sarà una delle prime cose che si può dare per domandare la specificità del nostro territorio e come ha fatto anche il presidente Reolung che ha fatto un bete sulle le le Reolung che ha bisogno di norme particolari per Vigo e me su da dica e quindi in cui ti sarai altrettanto insomma partire da per tornare lì arrivere così le territorio che parla su una certa maniera e ha bisogno del nome particolare per poter vire in avanti di 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 ma il vocabolario di tre chiusa sono 20-5 anni quasi che sono da tornare a fare le ultime messe sono da osa fare la parte finale di avere sempre manco dente che parla e chi parla poco diciamo di questo in dialetto, ma abbiamo cercato tanto anche al lavoro con la collaborazione del professor croato che le dò circa 25-30 anni fa in giro per i comuni, per le australie, per i posti del lavoro, per la fame e la tirassù e c'è una serie di parole che qualche d'una non era neanche dice, se non era a questo documento se il perdea. Abbiamo chattato parole anti-rares, magari sul lavoro del Molin o di quel che non si fa qui, e le è una roba bella, ma anche le dute a la variante, beton dice, deduti anche il paese, di Villanueva, di P.A., di Viennago, insomma, non solo il comune, ma anche la parlare spedere ogni posto, insomma. Grazie per assistire con noi altri, vi aspettiamo due bacche e vengo altre nuove. Sania Duce, buona continuazione. Sania Duce, buona continuazione. Grazie. Grazie.